Le soft skills sono qualcosa di fondamentale e se siete qui sopra sapete anche quando io ci tenga a questo argomento e quindi nell'episodio di oggi voglio elencarvi quelle che sono 10 soft skills, le più richieste sul mercato, le più richieste per questo anno lavorativo, quindi per il 2022. La prima è la gestione dello stress. E prima che qualcuno si scandalizzi dicendo ah perché queste aziende ci vogliono sfruttare... No, gestione dello stress ovviamente in questo periodo storico molto molto particolare nel quale stiamo lavorando in condizioni atipiche capire come gestire lo stress, evitare il burnout, organizzare bene i tempi, trovare quell'equilibrio tra vita privata e vita lavorativa diventa secondo me una soft skill fondamentale. La seconda è il problem solving, la capacità di risolvere problemi che se volete si collega tantissimo anche con la terza che invece è lo spirito d'iniziativa, cosa significa? Significa quella capacità di essere proattivi. E queste secondo me sono fondamentali, perciò no, le collego il problem solving allo spirito d'iniziativa. Ed è qualcosa che ad esempio anche io stesso adoro nei miei collaboratori e nelle persone con le quali lavoro, no? Quella capacità di affrontare un problema, risolvere un problema, proporre delle soluzioni. La quarta è la mia preferita in assoluto ed è l'empatia. E l'empatia credo che sia una delle cose che manchi di più all'interno del mio mondo, del mio settore, no? Questo del digital marketing, del mondo del business, delle cose online e così via. A volte ci sono delle persone che sono fortissime tecnicamente, dei mega espertoni, dei guru spaziali, ma che non hanno empatia. Ma diciamocelo, secondo me l'empatia è la soft skill più importante in assoluto all'interno di questo elencone. La numero 5 è la leadership. Quella capacità di leadership che deve essere presente in tutte le persone, non solo in chi si trova in ruoli più in alto, no? Quindi chi ha un ruolo magari da manager o similare. Il leadership può essere anche all'interno di un progetto piccolo, all'interno di un piccolo gruppo di lavoro e così via. Prima di andare avanti con l'elenco delle soft skill più richieste del 2022, ti ricordo di seguirmi sul mio canale YouTube per non perderti altri episodi come quello di oggi e soprattutto di attivare la campanella per ricevere delle notifiche quando esce un nuovo video. E poi seguimi anche su Instagram. Perché? Perché è l'unico social sul quale sto mettendo dei contenuti esclusivi che non vengono pubblicati da altre parti. E poi racconto un pochino di dietro le quinte sul mio lavoro, le cose che faccio, i libri che leggo e così via. La numero 6, la soft skill numero 6 di questo elenco è il pensiero laterale. E qui sopra di pensiero laterale ne parliamo tantissimo. Pensiero laterale è forse uno dei miei argomenti preferiti e se andate a cercare trovate anche altro materiale con il quale potete approfondire. C'è tanta roba qui sopra sul pensiero laterale, no? Quindi la capacità di pensare fuori dagli schemi, out of the box come direbbero in inglese. Poi la settima è il pensiero critico, slegato dal pensiero laterale, no? Sono due cose molto molto diverse. Il pensiero critico che di questi giorni è una cosa molto molto rara, ok? Quindi quella capacità di muoversi in maniera autonoma, indipendente, riflettere sulle situazioni, no? Trovare i pro e i contro, provare a smontarla, a chiedersi il perché, a porsi delle domande. Questo è il pensiero critico ed è qualcosa che secondo me serve a prescindere nella vita, non solo nel lavoro. Poi la numero 8 è la flessibilità. E anche la flessibilità so che già qualcuno arriva qua incazzato a dire Ah, perché ci vogliono sfruttare, perciò ci chiedono di essere flessibili. Sì, lo so, ragazzi, sicuramente c'è qualcuno lì fuori che, come dire, vuole sfruttarvi ed è molto molto probabile che veda queste cose come cose per approfittare di voi. Non è questo il caso. Oggi stiamo parlando di soft skill, quindi cerchiamo di guardare dal punto di vista positivo la flessibilità, intesa come quella capacità di adattarsi dal punto di vista lavorativo a un mercato del lavoro che cambia molto velocemente. E poi in questi due anni, lo sappiamo, questi cambiamenti sono diventati per 10 e così via. Ma in generale, secondo me, la flessibilità diventa molto molto importante soprattutto se hai a che fare con il digitale, con la tecnologia, con i lavori online, eccetera dove i trend nascono e muoiono nella manciata di qualche mese. La penultima, quindi la soft skill numero 9, è la propensione all'apprendimento. Ne ho parlato recentemente qui sopra sul mio canale YouTube. Andatevi a recuperare il video dove parlo dell'importanza di studiare sempre, di continuo, di non fermarsi mai. Quindi la propensione all'apprendimento è esattamente quello. Quindi le aziende vogliono delle persone che si aggiornino di continuo, che studino di continuo, che abbiano sempre qualcosa di nuovo da spulciare, da approfondire. Questa, secondo me, è una cosa fondamentale che fa una differenza abissale poi tra un professionista serio e uno che non lo è. E l'ultima, la numero 10, che è una delle mie preferite insieme all'empatia che dicevo prima, è la creatività. Che forse al suo interno ha anche alcune delle soft skill che abbiamo visto all'intorno di questo elenco, no? La creatività. Spesso si fa l'errore di pensare che ci sono persone creative e persone non creative. Ed è una cazzata, assolutamente no. La creatività è come un muscolo, cioè abbiamo tutti quanti. Solo che qualcuno si ricorda di allenarla e qualcuno invece si dimentica di allenarla. E tra l'altro, se volete allenare la vostra creatività perché volete investire in questa soft skill per il 2022, vi consiglio allora di recuperare questo video sul mio canale YouTube dove vi consiglio tre libri per allenare la vostra creatività.